La storia del popolo ebreo è fatta di momenti in cui ci si allontana da Dio. Lo ha notato il Papa nell'Omelia, ripercorrendo il primo libro di Samuele. La normalità della vita esige al cristiano fedeltà alla sua elezione e non venderla per andare verso una uniformità mundana. Questa è la tentazione del popolo e anche la nostra. Tante volte dimenticiamo la parola di Dio, quello che ci dice il Signore e prendiamo la parola di moda. Anche quella della telenovela è di moda, prendiamo quella. È più divertente. L'apostasia è proprio il peccato della rottura col Signore. Ma è chiara, l'apostasia si vede chiara. Questo è più pericoloso, la mondanità. perché è più sottile. Ma saremo come tutti i popoli. saremo anche noi come tutti i popoli. Si vede che si sentivano con un certo complesso di inferiorità di non essere un popolo normale e la tentazione è lì. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Che il Signore sia tranquillo a casa sua. Nel fondo era quello. Lo stesso del racconto del peccato, del primo peccato. Noi vogliamo conoscere il bene e il male e noi sappiamo per la strada. E per questo mangiamo la frutta. e la tentazione viene e indurisce il cuore. E quando il cuore è duro, quando il cuore non è aperto, la parola di Dio non può entrare. Gesù diceva a quelli di Emaus stolti e tardi di cuore. Fanno il cuore duro. Non potevano capire la parola di Dio. E la mondanità ammorbidisce il cuore. Ma male. Mai è una cosa buona il cuore morbido. No. Il buono è il cuore aperto alla parola di Dio che la riceve. Come la Madonna che meditava tutte queste cose in cuore suo, dice il Vangelo. Ricevere la parola di Dio per non allontanarsi delle elezioni. e la parola di Dio che vediamo il cuore dell'alto e la parola di Dio che vediamo in un cuore. Grazie a tutti.